Sì, grazie Enrico. Allora, sei punti in classifica, c'è da essere soddisfatti. Per oggi il Sassuolo vi ha fatto soffrire molto, nel secondo tempo ha dominato, di siete difesi anche in undici. Dunque, una gara abbastanza difficile per voi. Sì, sì, difficile, ma è stato più difficile per loro, visto che abbiamo vinto 2-0. Sono molto contento, innanzitutto, di vedere Abel, grandissimi amici. E' tanto che non lo vedevo, quindi sono molto contento. Poi, al di là di tutti i discorsi, campionato difficile. Noi siamo partiti molto, molto bene. Abbiamo fatto, penso, in un quarto d'ora, 4-5 situazioni da gol, da poter chiudere. Dopo essere andata in vantaggio questa partita. Abbiamo sofferto. Sapevamo che avremmo sofferto le situazioni di pallina attiva. Loro sono bravi, hanno più fisici di noi. Nessuno ti regala niente. Come ho detto prima, 11 dietro la linea della palla. Lo fanno le grandi squadre, che non ci si deve vergognare. E tantomeno il vero non si deve vergognare di difenderci tutti dietro la linea della palla. Anche perché, quando giocavamo noi, si difendiamo a loro dietro la linea della palla. Mandolini, da Balbo, adesso le faccio fare una domanda, allora, a questo punto. Visto che siete tanto amici. Vediamo se... Siamo molto amici, Andrea. Le voglio molto bene. Complimenti per tutto quello che hai fatto. Sicuramente sei molto arrabbiato, secondo me, conoscendote. Perché nel secondo tempo forse avete sofferto troppo rispetto a quello che potevate soffrire, no? Ma sì, abbiamo sofferto, però ripeto, al di là di... sono un po' stanchi, abbiamo perso qualche punto di riferimento. Però loro avevano questo possesso. È chiaro che diventavano pericolori sulle palle ferme. Quello che ho detto prima. Abbiamo... sì, ci siamo abbassati un po', non riuscivamo a ripartire. Ma soprattutto abbiamo subito sui calci d'angoli, sui pulizioni laterali. Lo sapevo, anche in condizioni normali avremmo potuto concedere qualcosa. Però mi piace pensare alle cose positive, che innanzitutto è il risultato che è importantissimo. E poi quel quarto d'ora, credo che a parità di partita dall'inizio, quarto d'ora il Verone è stato bellissimo. Mi è piaciuto tanto. Grazie, grazie a Mandolini, grazie a Saverio Montingelli. Grazie, Saverio.